Vietato fare jogging e passeggiate, parola del presidente della regione campania Vincenzo De Luca, intervenuto a seguito del chiarimento del ministero dell'interno relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia sia ormai alle nostre spalle, spiega De Luca, e si ignora che vi sono realtà del paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte del contagio. Si rischia per una settimana di rilassamento anticipato di provocare un'impennata del contagio. Ribadisco che in campania rimane in vigore l'ordinanza regionale, conclude il presidente, derivata da motivi di tutela sanitaria la cui competenza è esclusivamente regionale.